Questo pezzo di Pompei è un pezzo quasi inedito, è stato a lungo chiuso, ha avuto una storia anche molto tormentata. Qui siamo davanti a un cortile che fu bombardato nel 1943, una bomba cadde nel cortile, tra l'altro era usato allora come archivio delle anfore, come deposito delle anfore, che vennero praticamente completamente distrutto, una fossa della bomba l'abbiamo lasciata a vista con le anfore ancora all'interno, proprio per ricordare quell'evento, un evento traumatico per Pompei. Ma adesso possiamo dire che la storia è una storia fortunata perché si restituisce alla fruizione una casa splendida in una zona molto importante, fra Porta Marina e il Foro, una casa di altissimo livello, come dimostrano gli apparati decorativi, purtroppo è stata scavata nell'Ottocento, quindi molte delle pitture non ci sono, non sono in situ, alcune sono sparite per sempre, altre sono al Museo Nazionale, ma queste che sono conservate dimostrano il livello elevatissimo. Abbiamo una casa su due livelli con vista, come vedete si vede il mare, si vede capri, il secondo piano ha un piano inferiore a un giardino e ambienti produttivi.